Di 22 indagati per bancarotta, 11 se ne escono con un'accusa assolutamente molto ridimensionata, cioè si sta parlando di bancarotta semplice che ovviamente cambia molto di significato soprattutto per quanto riguarda poi le pene che sono assolutamente meno severe. Così Letizia Giorgianni, presidente dell'Associazione Vittime del Salvabanchi a seguito della richiesta di rinvio a giudizio per 21 dei 22 indagati per il crack della vecchia Banca Etruria che lo scorso dicembre avevano ricevuto l'avviso di chiusura indagine. A depositare la richiesta il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi. 10 in tutto le richieste di processo per bancarotta fraudolenta, quindi dolosa e punibile con pene più gravi. Per altri 11 invece il capo d'accusa è stato derubricato a bancarotta semplice e dunque colposa. Sicuramente in un istituto dove tutto stava andando alla malora è difficile immaginare che alcuni, anche solo pochi, avessero fatto bene il loro dovere. Tra l'altro voglio ricordare che anche per quanto riguarda gli altri che hanno un capo d'accusa importante, noi a suo tempo avevamo fatto fare delle visure e ci eravamo accorti che questi signori si erano già tutelati ovviamente rimanendo proprietari di poco a nulla del loro patrimonio. Dopo il penale ci dovrà essere una casa civile ma insomma il risparmiatore di sicuro andrà poco e niente anzi. Intanto l'associazione vittime del salvabanchi è pronta per tornare a far sentire la propria voce. I risparmiatori scenderanno mercoledì in piazza a Roma assieme al comitato indipendente di cittadini al voto subito. Saremo a partire dalle 10 a piazza Santi Apostoli e poi dalle 15 in poi davanti Montecitorio. Per far capire per l'ennesima volta che ancora il nostro problema non è concluso, innanzitutto è stato rimborsato appena un terzo degli aventi diritto.